Musica Musica Dal 2011 al 2012 c'è stato il 30% più dei migranti e soprattutto giovani talenti, giovani cervelli che preferiscono andare all'estero. Fondo nazionale per le politiche sociali, lo Stato stanziava un miliardo di euro nel 2007 che quest'anno sono diventati 45 milioni. Non parliamo dell'istruzione, l'Italia è l'unico paese europeo che dal 2000 a oggi non ha incrementato le spese per la scuola. Anzi, i tagli sono stati micidiali, più di un punto percentuale del PIL negli ultimi vent'anni. E infine, sempre parlando della scuola, dal 1998 al 2009, quindi in dieci anni, il numero degli edifici scolastici è calato. Sono mille edifici scolastici in meno in Italia, 20.000 insegnanti in meno e 200.000 alunni in più. Ecco, questa è la situazione, e l'ho scritta in modo sommario, quindi ci sarebbe molto da approfondire, nel nostro paese, almeno dal 2008, perché la crisi ha fatto sentire i suoi effetti peggiori appunto da quella data, ma probabilmente sì, però non ci sono stati anche anni prima. Però, dunque, di fronte a questa situazione così desolante, a questo quadro così sconfortante, la realtà ancora più sconcertante è un'altra. Come diceva prima Mattia Corsini, cioè noi stiamo andando a fondo e non abbiamo neanche la possibilità di muovere braccia e piedi, perché non abbiamo più la sovranità. Questo è il problema di fondo. Cioè, di fronte a questa crisi, l'Italia è di fatto impotente perché ha completamente perduto la sovranità in materia economica e monitaria. Non siamo noi, non è l'Italia che può decidere liberamente cosa fare. Secondo, i propri interessi, ovviamente i propri interessi nazionali e le proprie priorità. Il governo italiano non può attuare politiche protezionistiche o monopolistiche, cheppure non sono affatto escluse dalla Costituzione. Terzo titolo, gli articoli dal 35 al 47, prevedono anche forme di monopolio, di protezionismo. Del resto sappiamo che l'economia negli Stati nazionali oggi è sottratta al controllo degli Stati nazionali, appunto, e quindi al controllo dei popoli. E' affidata al mercato internazionale, che è una giungla più forte detta legge e debole soccorso. Ora, perché l'Italia è diventato un paese senza sovranità? La sovranità è rimasta solo formale, ma quella sostanziale non ce l'abbiamo più. Perché l'ha ceduto all'Unione Europea, a partire dal famigerato Trattato di Maastricht del 92. Quindi le altre tappe, Amsterdam, Nizza, Lisbona, hanno segnato delle perdite graduali di sovranità da parte del nostro paese. L'abbiamo ceduta all'Unione Europea, che però non è una supernazione. Non è un'entità politica. Questo è un altro grosso problema. E' una costruzione, che cos'è l'Unione Europea? E' una costruzione retta sostanzialmente dal potere bancario della Banca Centrale Europea e dal punto di vista politico dalla Germania. Questa costruzione è finalizzata all'egemonia, allo strapotere dei mercati finanziari e delle grandi lobby. E questo è l'Unione Europea. Non è l'Europa dei popoli. E' l'Europa dei grandi mercati finanziari. Questa egemonia dei mercati finanziari si raggiunge attraverso la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. E quindi non devono avere più frontiere che possano ostacolari. E da una parte l'egemonia, la supremazia assoluta dei mercati finanziari sull'Europa si traduce in una perpetua austerità dei popoli. decenni di sacrifici ci aspettano, decenni di tagli alla spesa pubblica. E' un'egemonia non democratica, ricordiamo la famosa lettera della Banca Centrale Europea che nell'agosto del 2011 fa cadere il governo. in questo contesto il Parlamento ha di fatto una funzione non voglio dire decorativa perché sarebbe troppo ma puramente consultiva. Non decide. Ora, per noi dell'Arsa riconquistare la sovranità nazionale significa riconquistare la sovranità popolare. e questo non è possibile rimanendo nell'Unione Europea e nel contesto della moneta unica dell'Europa. Per noi non è realistico pensare come Hollande che parla del balzo in avanti democratico dell'Europa. Un giorno l'Unione Europea non sarà più quella dei banchieri della grande finanza, delle grandi lobby ma sarà un'Europa democratica. No. Per noi questo è assolutamente irreale. Non pensiamo che sarà mai possibile riformare dall'interno l'Unione Europea e l'Europa. Riformarle in che senso? In senso sociale, in senso anche federale come è stato detto, così continuano a ripetere in senso progressista. E questo è perché i Paesi Europei hanno storie e culture diverse. Ma come si fa? Ma come si fa a pensare a una unione politica quando, a una democrazia europea quando manca il demos, cioè il popolo? Ma esiste? Voi avete mai visto il popolo europeo? Noi conosciamo i vari popoli che hanno una storia, i vari paesi che hanno una storia anche millenaria a me spalle. Una storia anche di conflitti che si sono conclusi non tantissimo tempo fa. con la seconda guerra mondiale ricorda un po' la situazione dei paesi e la tradizione anche dei paesi europei la forte identità ricorda un po' la storia antica sulla storia delle città stato greche le popolis che non riuscivano mai a unirsi e a formare un unico stato pur parlando praticamente la stessa lingua avendo in comune molte più cose di quanto non abbiamo in comune noi con gli altri popoli europei insomma i popoli europei hanno in comune fra loro. Vi prendo un esempio dell'economista francese Lord Don che per ipotesi consideriamo innalizzabile ma ammettiamo per pure ipotesi accademica che possa esistere un giorno un Parlamento europeo sovrano figuriamoci. Allora immaginiamo che questo Parlamento sovrano a un certo punto voti una legge che permette lo sporamento del debito sovrano. dell'Unione europea ma secondo voi la Germania ci sarebbe? Dice Lord Don oppure facciamo l'esempio della Francia il Parlamento vota una legge il Parlamento europeo sovrano vota una legge che privatizza la previdenza sociale un discorso del genere fatto ai francesi che significa l'immediata uscita della Francia dall'Unione europea dice Lord Don quindi la frase di questo la frase di questo grande noto scrittore tedesco Enzes Berg è quanto mai tratta da un libretto che è uscito un paio di anni fa che ha provocato molte polemiche quanto mai indicativa l'Europa ha già superato ben altri tentativi di informare il continente l'ultimo a provarci è stato Hitler e Hitler voleva unificare l'Europa tutti avevano in comune il bris cioè la superbia questa parola che deriva dalla tradizione greca il superbo è colui che viola l'uomo che viola i limiti i confini che sono stati posti al suo agire dagli idee dal destino e quindi nessuno di questi tentativi era destinato a un successo duraturo non possiamo pensare che ripeto paesi di tradizione millenaria come la Francia la Germania l'Italia stessa possano mai unirsi e formare un unico super stato ma non c'è nessun realismo in queste cose l'Unione Europea secondo noi nell'asse si sfascerà perché è il prodotto di una di una strazione è il prodotto della volontà egemonica di una minima parte della società europea di quella che è in mano la finanza dei grandi lobby dicevo dei grandi lobby industriali anche all'Unione Europea non corrisponde l'esistenza reale di nessun popolo europeo non esiste una società civile europea nemmeno una minoranza colta come poteva essere quella che ha pilotato il risorgimento italiano non c'è non esiste un'opinione pubblica europea non esistono sindacati unitarie a livello europeo né tantomeno partiti politici non esistono editori su scala europea nemmeno a livello di radio e televisione si può dire una cosa del genere non esiste un'associazione di cittadini su scala europea noi ci pensiamo ancora ci penseremo sempre in chiave nazionale quindi questo progetto unionista europeista di unire è appunto di tenere insieme ciò che è di uniformare meglio di uniformare ciò che è diverso perché è giusto è giusta l'idea di impedire che tra i popoli europei ci siano altri conflitti rovinosi come quelli che hanno insanguinato il continente nel primo novecento ma non è l'Unione Europea il modo migliore per realizzare la pace tra i popoli europei anzi potrebbe essere la scintilla di tensioni di non poco comodo quindi questo progetto unionista in che cosa consiste nel distruggere la sovranità nazionale senza sostituire la sovranità dei vari dei vari paesi una super nazione un'entità politica in grado di forte in grado di 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 sostenere i popoli perché l'espressione sarebbe l'espressione di quel popolo che abbiamo detto non esiste questo progetto ignora ogni considerazione relativa al carattere alle tradizioni ai se volete pregi e difetti dei singoli popoli europei ci viene detto che bisogna stare insieme perché soltanto in questo modo è possibile fronteggiare le sfide della globalizzazione dunque Lars è convinta che invece le nazioni non sono morte date per defunte ormai non sono affatto morte i popoli sono destinati ancora a una lunga vita nonostante i tentativi di omologazione globalista allora dobbiamo sapere che il risveglio dei popoli potrà essere non sappiamo se e quando avverrà avverrà sicuramente ma i tempi potranno essere lungi speriamo di no ma dobbiamo sapere che questo risveglio potrà essere anche violento potrà prendere strade forme che non ci piacciono potrà avere aspetti nazionalisti e dopo una crisi economica non è detto che vinca sempre il New Deal di Roosevelt dopo la grande depressione del 29 si negli Stati Uniti vincono i democratici ma in Europa vince Hitler Lars esiste anche per dare un voto democratico e costituzionale a un risentimento a un rancore si sta diffondendo sempre di più e i cui esiti sono imprevedibili basta io per ora mi fermo che con me mi fermiamo grazie grazie Grazie.